Andrea Prevignano è qui con noi amici di Urban Week. Tu sei un conduttore radiofonico, scrittore, giornalista. Sei nato nel 67 e preferisci che danni i canali tradizionali al web. Corretto? Sembra un buon ritratto. Impietosamente ho sottolineato che sono nato nel 67, quindi facendoci qualche calcolo molto semplice capirete, nonostante sia vestito come un ragazzino. Questo è un po' il problema. Sì, i canali tradizionali rispetto al web, sì, sono ancora molto legato all'oggetto. Se stiamo parlando di musica, naturalmente sono molto legato all'oggetto disco e addirittura sono legato all'oggetto vinile, ma questa è una passione che ormai sempre meno gente condivide, però il supporto per eccellenza. Credo poco al web, forse perché sono fuori tempo massimo, nel senso che è una questione generazionale, no, credo poco al web perché, come ho già detto in alcune occasioni, c'è un'iperframmentazione della proposta musicale, e questo va un po' a discapito. La questione è un po' quella dei blog. È bella la democrazia, tutti possono dire la loro. Detto questo, che noia! E nella musica succede un po' esattamente la stessa cosa. Qual è quindi la soluzione? Non credo ci sia, nel senso che il progresso ci porta in avanti e il web sarà sempre di più la strada da battere, immagino. Difatti io mi ritengo un po' un luddista, un passatista, in questo senso, non ho molta voce in capitolo, non capisco quale sarà l'evoluzione, ma sicuramente quella è la strada, credo. Quindi un consiglio che daresti ai giovani? Un consiglio riguardo a cosa? E la musica, con la passione, un giovane oggi viene da te e ti chiede, voglio diventare quello che oggi sei tu. Cosa deve fare secondo te? Porca miseria, sarebbe un dramma che volesse diventare quello che sono io. Dipende da che punto di vista. Io sono un musicista fallito, sono un giornalista musicale che non fa più quel lavoro lì e sono un intrattenitore, un informatore, non so. Sei anche molto modesto, lo possiamo dire. Non lo so, nel senso, ho fatto un po' tutte queste cose e ultimamente mi trovo a fare una cosa che non è proprio la mia, cioè quella di fare la cosiddetta, per dire una parola brutta, e Dio, mia bian gloria, l'infotainment. Non lo so, io ci sono entrato per caso, quindi non saprei veramente dire che curriculum bisogna avere per fare questo tipo di attività. Ci sono entrato per caso in maniera anche piuttosto fortunosa, però questa è una lunga storia. Secondo me il segreto numero uno è, se volete fare i giornalisti o occuparvi, leggete tantissimo, leggete e informatevi, leggete tanti libri, seguite l'informazione, seguite soprattutto, createvi un percorso, anzi, createvi, come dire, una sorta di bookmark, dove dovete mettere, che ne so, i vostri siti preferiti, i vostri giornali preferiti, createvi una sorta di album, di titoli e di informazione. E che Dio ve la mandi buona in pratica. Studiate, studiate tanto, non fate come me che ho lasciato l'università. In genere cercate di arricchire il più possibile la vostra cultura umanistica, perché da questo parte tutto l'interesse, per l'arte, per la musica. Quindi formazione, istruzione? Istruzione selvaggia, studiate tantissimo, e incrociate le dita, perché sono tempi veramente, come dire, difficili. Io sono entrato in questo mondo in un momento in cui la bolla di internet ha tirato dentro tantissime persone e per questo mi ritengo anche molto fortunato. Questa cosa non esiste più, bisogna trovare altre strade, non saprei quali queste strade possano essere, però in qualche modo, per entrare nella ruotona del criceto, un modo c'è, non so quale sia, non sono un buon maestro. Nella capacità di ogni ragazzo, in questo caso, riuscire ad entrarci. Ciao Urban Week, spero di essere stato all'altezza. Grazie da Andrea Prevignano.